E in questa nuova location e sperando di aver risolto il problema dell'eco in questa stanza andiamo di nuovo nella rubrica delle tre aziende più sottovalutate del mese, abbiamo fatto quelle americane e per novembre adesso facciamo quelle italiane, non sono tre, sono cinque. Bentornati, partiamo subito a razzo perché sono cinque aziende e voglio dirvi tutto quello che vi posso dire il più velocemente possibile. La prima azienda come vedete si chiama Farma Nutra SPA. Market cap di 503 milioni, circa 107 milioni e mezzo di fatturato, net income 14 milioni e mezzo, ritorno in equity 28%, 13,5% di ritorno in asset, PE quasi 35, gross profit margin 49 con un dividend yield dell'1,62. Si occupa di ricercare, di segnare e sviluppare e fare dei supplementi nutrizionali, quindi gli integratori in tutto il mondo. Inutile perdere tempo a dire in Europa, in Asia, in tutto il mondo, siamo dappertutto. Nell'ultimo anno l'azienda aveva rintracciato fino a luglio e poi si è ripeso un po', ma è ritornata di nuovo a dei livelli che sono più o meno simili a quelli del novembre 2023, quindi per questo l'ho inserita. Vediamo un attimino il financial summary dell'azienda. A livello annuale come possiamo vedere il fatturato è passato dai 56 milioni e 7 ai 101 del 2023, con un net income dei 14 milioni che è intorno adesso ai 12 milioni e 8. Gross margin 49%, operating margin 22,6%, net profit margin 13,5%, ritorno all'investment 20,29%. Come possiamo vedere la balance sheet, anche questo cresce nel numero degli asset e le liabilities, anche queste crescono, ma la forchetta sembra aumentare in funzione del fatto che gli asset sono maggiori delle liabilities, se no questo ci interessa, giusto? Giusto? Giusto. Cash flow sempre positivo, ha avuto un calo nel 2022, ma come possiamo vedere è un'azienda che effettivamente è solida, o almeno questo riusciamo a vedere. Dividendi, vediamo un attimino se i dividendi sono in aumento, possiamo vedere che erano 33 centesimi nel 2018, adesso sono 85 centesimi, quindi il trend dal 2018 al 2024 è sempre in aumento. Seconda azienda. La seconda azienda si chiama San Lorenzo S.P.A. e nell'ultimo anno è passata, diciamo, ad arrivare a 34 euro, con dei picchi che erano arrivati quasi a 45, quindi ha avuto un bel calo. Net income quasi 98 milioni, revenue quasi 902 milioni, market cap 1 miliardo quasi 2, P.E. 12,95, return on asset 11.2, return on equity 28.8, gross profit margin 29.1, dividendo del 3%, male non fa. Cosa fa? Vende delle barche di piacere, l'abbiamo vista anche in qualche puntata precedente. Quindi roba di piacere. Andiamo a vedere la parte finanziaria di San Lorenzo, fatturato ovviamente se c'è i soldi c'è sempre crescita e il net income è invece anche questo crescita, anche se di meno. Net income è passato dai 34 milioni e mezzo ai 92,8, quasi 93, mentre il fatturato è passato dai 500 quasi 49 milioni ai 866 milioni, quasi 877. gross margin 29.13, operating margin 14.4, net profile margin 10.79, return on investment 20.12. Il balance sheet come possiamo vedere che i suoi asset sono sempre in aumento, così come le liabilities e la forchetta rimane più o meno stabile nel tempo. Cash flow si è passato dai 94 milioni e 3 ai 200 quasi 16 milioni, che male non fa. Andiamo a vedere il dividendo, come possiamo vedere dava 0,30 centesimi nel 2021, adesso siamo a 1 euro nel 2024. Quindi, anche se la storia è breve, si può dire che il dividendo è tendente all'aumento. Terza azienda. Inuit. Vediamo un'azienda che nell'ultimo anno è praticamente crollata dai 11,54 euro ai 9,58 euro. Market cap quasi di 9 miliardi, fatturato un miliardo net income 355 milioni circa. PE 25,78, ritorno in asset 3,8%, ritorno in equity 8,6, gross profit margin 93,2, dividendo il più succoso quasi 5%. Cosa fa? Fa infrastrutture wireless sulla rete italiana, soprattutto FWA e comunque provvede anche ad installare i piloni per le antenne, un po' come se fosse un RIT delle telecomunicazioni come sono negli Stati Uniti d'America. Dati finanziari, fatturato come possiamo vedere dai 663 milioni si è passati quasi ai 960, net income dai 156 milioni si è passati ai 300 quasi 40 milioni. Dicevamo come prima gross profit margin 93%, operating margin 54,6, net profit margin 35-45% con un ritorno sugli investimenti quasi del 5%. Asset che sono praticamente stabili e le liabilities che sono più o meno stabili anche quelle, un po' più ballerine, qua non so perché non ci siano liabilities né al 2022, bisognerebbe approfondire. Vi ricordo che vi do informazioni di tipo generico, se poi le aziende vi interessano dovete andarle a approfondire voi. Cash flow sempre positivo, se è avuto qualche calo nel 2021, nel 2022, nel 2023 ci si è ripresi. Andiamo a vedere anche la parte dei dividendi, quella che ci interessa di più. Dividendo che era 9 centesimi nel 2016 e nel 2024 e 48 centesimi. Mi sembra un ottimo aumento, no? La quarta azienda la conoscete tutti. Parliamo infatti di Moncler, un po' lusso nel vestiario, che ha avuto dei picchi nel marzo del 2024 e adesso è tornata a 50 euro quando aveva toccato dei picchi di quasi 70. 13 miliardi e 6 di market cap, 3 miliardi di fatturato e quasi 650 milioni di net income. P.E. quasi 21, return on asset 14%, return on equity 22%, gross profit margin quasi un 78% con un dividendo del 2,26. Sappiamo tutti cosa fa Moncler, fa vestiario per la gente che ha qualche soldino in più. Non ci sono io in mezzo quindi. Parte finanziaria. Vi ricordo che se volete approfondire Marco Lippiello ha fatto diversi video su Moncler. Comunque vediamo come il suo income statement si è passato con un fatturato da 1 miliardo e 440 milioni nel 2020 a quasi 3 miliardi nel 2023, con anche il net income che è passato dai 300 milioni ai 600 milioni, duplicato in tre anni. Gross margin quasi 78%, operating margin 30%, net profit margin 21%, ritorno sugli investimenti quasi un 19%. Vediamo anche che gli asset sono cresciuti anche questi dai 2 miliardi e 8 ai quasi 5 miliardi con le liabilities da 1 miliardo e 230 milioni a 1 miliardo e 780 milioni. Quindi comunque la forchetta si va ad allargare fra asset e liabilities e questo è buono per noi. Cash flow sempre positivo, più o meno è ballerino ma poco, sta sempre nella stessa, nello stesso ordine di grandezza, per i 920 e i 9 miliardo circa. Quindi non cambia tanto. Andiamo a vedere il dividendo però che ci interessa. Dividendo che è da 10 centesimi nel 2014 è praticamente nel 2024 è 1,15 euro. Si può dire che si sia decuplicato, praticamente da 10 centesimi a 1,10 euro, 1,15 euro e tanta roba. Ultima azienda. Industria denora. In quest'ultimo anno le industrie denora sono passate dal valere a 15 euro a quasi 9, quindi è stata una bella perdita. Comunque capitalizza ancora 1 miliardo e 750 milioni, fattura quasi 840 milioni e un net income di circa 84 milioni. Piede 22, ritorno sugli asset 18%, ritorno sull'equity quasi un 27,5%, gross profil margini 37,4% con un dividendo un po' più basso, 1,39%. Di cosa si occupa? Essenzialmente fa dell'elettrochimico, fa elettro, catalisti, membrane tecnologiche, contaminanti e prodotti per la rimozione dei sistemi, insomma è un'azienda tecnico-chimica che va approfondita se vi interessa. Guardiamo la sua parte finanziaria. Vediamo che l'azienda ha veramente fatto crescere il proprio fatturato dai 505 milioni nel 2020 agli 870 milioni nel 2023, comunque aveva toccato gli 857 milioni nel 2022, con il margine che è passato dai 66 milioni ai 230 milioni, quindi il margine è in aumento. Infatti lo possiamo vedere qui, net profil margini 10%, gross margini 37,4%, operating margini 15,4%, ritorno sugli investimenti 10,29%. Il balance sheet vediamo asset che sono passati da 770 milioni a 1,3 miliardi con le liabilities che sono passate da 357 milioni e sono scese a 420 milioni. Quindi ha avuto un picco nel 2022, 540 milioni di liabilities, sono scese di nuovo a 420 milioni, quindi è un'ottima situazione finanziaria. Col cash flow che invece in aumento erano 76 milioni nel 2020, siamo a 212 milioni nel 2023. Non male. Vediamo ultimo dato, il dividendo. Dividendo che in questo momento è stato dato solo per due anni consecutivi, 2023-2024, sempre stabile, 12 centesimi per ogni azione, bisognerebbe vedere se questa azienda diventerà una dividend growth e quindi se possa interessarci a noi, chiamiamo tanto i dividendi. Come sempre vi ricordo che questi sono semplicemente degli spunti di aziende che possono essere sottovalutate in questo particolare momento storico e non sono assolutamente consigli di investimento, ma consigli ad approfondire aziende che potrebbero interessare un investitore da dividend growth e un investitore che ama le aziende italiane che possono dargli soddisfazione in più. E se apprezzate tutto quello che dico, trovate tutti i modi per sostenermi qui di fianco a me. Come sempre ricordate che vi voglio bene e noi ci vediamo a un prossimo video. A presto! Ciao!